Sindaco brava! Sono qua a parassitare gli italiani, sono come le zecche dei cani. A quanti sarà capitato di sentir dire non facciano figli se non li possono mantenere? L'ultima volta l'ho sentita dire da una donna di trent'anni che non aveva ancora preso la laurea e viveva ancora con la paghetta dei genitori, eppure pontificava dal basso della sua miseria morale. Ebbene, sarebbe ora che questi analfabeti dell'esistenza scoprissero la storia e la conoscenza. Eviterebbero di avere le zecche nel cuore. Ebbene, sarebbe ora che gli italiani, 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 perché gli italiani, sarebbe ora che gli italiani, quindi gli italiani, sarebbe ora che gli italiani, ebbene, qura qucciongnere stradd abortioni, che gli italiani, az Witcher 3, dove si la che unama viene้a e però non lo so firetelliano. Grazie a tutti.